Sotto una pioggia battente la Massese spugna il Romanelli di Borgo San Lorenzo conquistando il successo consecutivo numero 7. Rispetto all'11 di partenza schierato contro la Pistoiese, Tazioli ripropone della Maggiore al centro della difesa in coppia con Miglianti, mentre in attacco Lombardi prende il posto di Vilgnali precauzionalmente in panchina dopo gli acciacchi fisici accusati in settimana. Nella Fortis dell'ex indimenticato Vitaliano Bonuccelli, out della latta appiedato dal giudice sportivo. Dirige Serani di Monza, arrembante partenza dei Bianconeri pericolosi dopo 120 secondi con Taddeucci che non sfrutta adeguatamente un cross da destra di Bartolomei. Al dodicesimo i Bianconeri passano in vantaggio, gran lavoro di Taddeucci che difende la palla e libera in area Diego Vita che fredda Strambi con un potente sinistro incrociato che bacia il palo e si infila in fondo al sacco. Sigillo numero 4 per l'attaccante classe 1993. Al diciottesimo l'ex Carrarese ha l'occasione del raddoppio ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Un minuto dopo Lombardi mette alto da buona posizione, prima dell'intervallo un sussulto della Fortis Juventus con la conclusione di Bugelli da centro area che termina sull'esterno della rete. Episodio dubbio in area borghigiana prima del riposo quando Diego Vita viene trattenuto prima della conclusione. Evidentemente per concedere un rigore alla Massese ci vuole qualcosa di più. In avvio di ripresa i locali appaiono più determinati, sugli sviluppi di un calcio d'angolo la deviazione di Gnesti si perde di poco a lato. All'ottavo la palla del pareggio ce l'ha aperuta ma il suo piatto destro è bloccato in tuffo da Sannino. All'anno nota Deucci svetta più alto di tutti ma il suo colpo di testa termina fuori di poco. I bianconeri ripartono in contropiede al tredicesimo Strambi è bravo a respingere un tiro di Lombardi. Al trentunesimo Vignali sfrutta un buco di un difensore, punta l'area di rigore avversaria, supera con un pallonetto Strambi in uscita ma il providenziale intervento di Fusi nega la gioia del gol all'estroso fantasista Puano. Al trentaseiesimo Tadeucci, sempre generoso, soffia palla ai centrali borghigiani e si invola verso la porta avversaria costringendo Polvani al fallo. Per Serani è chiara occasione da gol e per il numero 5, bianco-verde, c'è la doccia anticipata. Sulla punizione seguente Angelotti con la complicità di Strambi realizza la rete del 2-0 che mette così fine dopo tanti mesi a lungo digiuno del centrocampista di Sarzana. Allo scadere la massese cala al tris, grande numero di Vignali che salta diversi avversari e realizza la prima rete con la maglia bianconera. Finale a Romanelli, Fortis Juventus 0, Massese 3. Domenica sfida di cartello al Degli Olivetti dove gli Apuani ospideranno il tutto cuoio secondo in classifica.